Ok, l'unica cosa per cui darei assolutamente tutto è una Ducati Superbike 996 Rosso Fuoco. Era tra le cose di Nate. L'ha strappato da una rivista quando avevamo 15 anni. Sognavamo di avere abbastanza soldi da comprarne una insieme un giorno e dividerla. Se Nate l'ha conservata, doveva essere molto importante.